Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video, video inerente alle sneakers più diciamo rilevanti che per ora sono state annunciate per quel che sarà un'uscita prevista nel 2018, quindi nell'anno nuovo. Non saranno sicuramente le uniche, però ne sono già uscite diverse pa e quindi voglio spenderci due parole e tenervi aggiornati qualora le aveste perse. Un commento personale prima di partire con le analisi, io ragazzi adoro le scarpe, cioè fosse per me io tutti i soldi di spendere in scarpe, il problema è che non puoi vestirti soltanto di queste, però veramente le adoro. Infatti tendo personalmente a restare aggiornato maggiormente su queste ultime appunto per questo motivo. Un'altra cosa personale con cui però vi voglio coinvolgere è che a gennaio ora ci saranno i saldi, quindi ho accumulato un po' di mancette qua e là, un po' di soldini da parte, volevo comprarmi appunto un modello di sneakers e ero indeciso. Ovviamente un modello di sneakers è un po' più costoso, se così si può definire, che però rimanga su uno stile classico, cioè mi piaceva magari un paio di Gucci, ho visto anche le Alexander McQueen, però le Alexander McQueen mi sanno tanto di più femminile rispetto al maschile, quindi sono un po' indeciso. Se qualcuno di voi ha qualche bel consigliato da darmi, ben venga. Quindi questa era un po' l'introduzione, adesso partiamo con le analisi delle varie shoes. La prima scarpa di cui voglio parlare sono le Easy, di cui Easy Mafia ha fatto già uscire la grafica, se non mock-up, di due modelli di 350 V2 che usciranno pressoché nell'estate. Abbiamo un primo modello color tutto lime che uscirà a giugno e un altro modello color tipo sesamo, quelli c'è scritto sesamo, che uscirà invece ad agosto. Sono due modelli molto simili tra di loro, però quello che c'è da tenere in considerazione di tutto ciò è che le 350 non ci abbandoneranno nel nuovo anno, ma come vedete due nuove colorway quantomeno saranno garantite. Ecco, parlare già ora della prossima estate, quindi l'uscita delle prossime estate, è diciamo un po' frettoloso. Però, siccome queste notizie sono già uscite, Easy Mafia le rese pubbliche, Easy Mafia è una fonte più che attendibile, quindi ne teniamo di conto. Quello che mi domando io è come mai sono uscite informazioni delle release della prossima estate, non magari di una un po' più vicina, che ne so, verso gennaio-febbraio, ecco. Una collaborazione invece di cui vi avevo già parlato e vi avevo detto che sarebbe uscita poi nel 2018, è quella tra Supreme e Nike, che Nike ripropone le Air Force One, AIG. E stavolta staremo a vedere un po' come sarà l'aspetto grafico. Ancora non c'è qualcosa di concreto, c'è stato soltanto un mock-up, che mi sembra l'abbia rilasciato, o Supreme Community o Drops by Jay, non mi ricordo quale account Instagram. Comunque staremo un po' a vedere appunto come ci verranno proposte stavolta. Spero qualcosa di carino, dai mock-up che avevo visto non mi piacevano già, mi sembra così a memoria che avessero soltanto cambiato tipo i lacci e qualcos'altro, ma non grandi modifiche, ecco. E quindi se non mi modifichi l'Air Force One AIG a me non piace già di natura, perché comunque già è un modello di cui faccio fatica, almeno che non me lo rendi una bomba, ecco, è difficile che te lo compri. Ci saranno comunque ulteriori discorsi, spero, riguardo tutte queste notizie di cui ora vi sto accennando barra dando, no? Nike per Off-White è stata come collaborazione riannunciata anche per il 2018, come credo tutti voi sappiate. Ecco, questa collaborazione qua sapete tutti che è la mia rovina, che non riesco a comprare niente, nessun pezzo. Ci riproverò nel 2018, sperando sia un anno un po' più fortunato sotto questo aspetto. E speriamo bene. Dunque, cosa si sa già di questa collaborazione che uscirà nel 2018? Qualche modello sarà il solito, già, diciamo, affrontato nel 2017. Per esempio l'Air Jordan One e per esempio le Vapor Max e per esempio ce ne saranno altri, tipo le Air Max. E per ora sono uscite delle nuove grafiche soltanto delle Air Jordan One, cioè due grafiche, una di colore tutta bianca e una di colore tipo azzurrino, barra celestino. Non so bene che colore sia, comunque super giù la tonalità è quella. E sono uscite anche due tonalità nuove delle Vapor Max. Una tutta bianca e una sempre nera, ma con la suola anche lì celeste, tipo. Ci saranno molto presumibilmente nuovi inserimenti di nuovi modelli nella collaborazione. E qualcosa, diciamo, è già accennato. Si prospetta l'inserimento delle Air Jordan 3 e si prospetta anche l'inserimento di un paio di Nike Air Cortex. Non ci dimentichiamo però che nel 2017 non sono state rilasciate le Converse Chuck Taylor e che quindi faranno molto presumibilmente, anzi molto più che molto presumibilmente, la sua comparsa. Cazzo non lo scioglilinguo ho detto, vabbè, la sua comparsa quindi nel 2018. Anche di questo modello sono curioso di sapere la vostra perché trova veramente due fronti opposti a scontrarsi tra di loro nel senso che non si rimane indifferenti davanti a questo modello. O ti fa veramente schifo, perché dici proprio... mi fa schifo, così, no? Lo dici palesemente. Oppure dici, cavolo, sono una bomba, mi piacciono, le voglio a tutti i costi. No, è difficile rimanere... a me non mi fa né caldo né freddo, ecco, di fronte a questo modello. Ultima news riguardante un altro paio di scarpe sono le Candy Clamard in collaborazione con Nike. e questa collaborazione era già uscita a ottobre, cioè un paio in questa collaborazione era già uscita a ottobre, intitolate le Dem. Adesso ci viene proposto un nuovo paio di Cortex di cui vedete qui l'immagine e che personalmente non piacciono, cioè a me non piace proprio il modello, però sicuramente per gli amanti o per qualche persona a cui piace Candy Clamard niente toglie di amarle, ecco, tutto lì, questo è solo un mio giudizio personale come sempre. Perciò, raga, attualmente le news si concludono qua. Questo è quello che avevo da dirvi, spero che questo video vi possa essere piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quale scarpe mi consigliate di comprare, perché sono qua che ci penso veramente tutti i giorni, non so su cosa buttarmi. Più che altro mi piacerebbe monitorare un modello di shoes, di modo che se poi vanno in saldo, ecco, sono uno dei primi a accoggersene e magari becchi anche il tuo modello, no? Il tuo numero, insomma, non il modello. Perciò, raga, vi ringrazio tutti per l'attenzione, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e al gruppo Facebook se ancora non l'avete fatto. Noi ci rivediamo sicuramente con un prossimo video, grazie ancora. Bella.